E' scesa in piazza una città intera per sostenere le proteste dei lavoratori della raffineria. E' sciopero generale a Gela, dove stamani almeno 5.000 persone hanno manifestato al fianco degli operai che da giorni presidiano le vie d'accesso alla città. I ritardi della politica, il mancato rilascio delle autorizzazioni di riconversione degli impianti per il passaggio della produzione dal petrolio ai biocarburanti ha spinto Gela alla mobilitazione. Saracinesche chiuse, studenti in piazza e perfino la chiesa ha sfilato in corteo. Ieri Leni ha confermato un investimento di oltre 2 miliardi di euro e la cassa integrazione potrebbe essere sbloccata. Le preoccupazioni però restano tante. Insomma, Gela è tema che possa ripetersi il caso di Termini Merese, che dopo la chiusura della Fiat resta una città in sofferenza.